Buongiorno, sono Nicola Vazzoler, Vice Sindaco e Assessore all'Urbanistica e ai Lavori Pubblici del Comune di Aquileia. Questo breve video messaggio per confermare l'adesione da parte dell'amministrazione locale che in questa sede rappresento alla Carta per la Regenerazione Urbana del Green Series, perché si tratta di un documento che trova molti punti di contatto con la visione di sviluppo urbano, strategica e di lungo periodo che l'amministrazione si dotata a inizio mandato, una visione che punta alla sostenibilità innanzitutto ambientale, ma anche economica e sociale, che punta al consumo di suolo zero, che punta alla regenerazione urbana. In sintesi, una visione di sviluppo urbano di tipo centripeto, ovvero interessata a ciò che c'è già, interessata a mettere a posto l'esistente, al consolidamento dell'esistente. Si oppone quindi a una visione di sviluppo centrifugo. Quest'anno abbiamo cercato di capire quali potessero essere gli strumenti da utilizzare per raggiungere gli obiettivi prefissati, ma non è stato un anno facile. Lo scorso autunno anche noi abbiamo pagato gli effetti delle alluvioni che hanno interessato l'Italia settentrionale. È stata però occasione utile per ragionare assieme al Consorzio di Bonifica Locale, al CAF, che è l'ente che gestisce gli impianti idrici e fognari della città, ragionare assieme a questi enti, dicevo, attorno ad un protocollo di intesa per risolvere sì i problemi contingenti, le criticità quotidiane, ma anche quelle di lungo periodo. Questo perché ci sono studi internazionali che ci dicono che Aquileia dopo Venezia sarà il secondo sito UNESCO del Mediterraneo ad essere sommerso dalle acque da qui ai prossimi 50 anni. E questo non deve accadere. È per questo che fin da subito dobbiamo ragionare sugli strumenti da mettere in campo e da utilizzare. Quest'anno abbiamo, fra le tante cose, aderito alla Plastic Free Challenge. Abbiamo ripreso in mano un regolamento per un albero per ogni nato, quindi il rimboschimento delle nostre aree verdi. Abbiamo adottato un regolamento sui beni comuni, quindi abbiamo portato il tema dei beni comuni ad Aquileia e la loro rigenerazione. Abbiamo scritto diversi altri regolamenti, fra cui quello che ci dice come usare e gestire le aree verdi pubbliche, ma anche quelle private. Però c'è stato anche il lockdown causato dalla pandemia da Covid-19. È stata però occasione questa per riprendere in mano la visione strategica di inizio mandato e produrre un documento di indirizzo politico e programmatico, che abbiamo chiamato Sloculeia, e che intende ragionare attorno ad una città capace di adattarsi alle criticità esterne, ma anche interne. È un documento alla quale hanno aderito la regione autonoma Friuli-Venezia-Giuglia, la sovrintendenza regionale, Promo Turismo, la Fondazione Aquileia, la Società per la Conservazione della Basilica e il Museo Archeologico Nazionale. E di questo noi siamo molto contenti, perché anche altri enti pubblici credono nel progetto di una città resiliente e adattiva. Il documento attualmente è nelle mani delle università convenzionate, Trieste, Udine e Iodi-Venezia, che tradurranno il documento in azioni fattive per una città adattiva e resiliente. E questo documento, anche questo documento, tra molti punti di contatto con la carta in oggetto. E quindi sono molto felice, sarò molto felice di condividere i risultati appena saranno pronti. E auguro a tutti un buon lavoro e a presto.